Patto tra Musumeci, Salvini e Toti per la terza gamba della centrodestra. All'Assemblea regionale siciliana, nuovo gruppo parlamentare, genovese e il capo. Miciche, osserva. Romano e Lombardo, contrari. Se il nuovo soggetto politico appena elaborato in Sicilia, storico laboratorio politico d'Italia, almeno nelle intenzioni dei proponenti, dovrebbe essere un'occasione di rafforzamento e di rilancio della coalizione di centrodestra. Al momento, almeno così appare da quanto accade, ha provocato solo confusione ed un confusionario tutti contro tutti. La premessa fondante del nuovo soggetto politico sarebbe un nuovo centrodestra a trazione e lega. Il presidente della regione, Nello Musumeci, ha condiviso e sposato tale progetto e insieme a Giovanni Toti, neo-coordinatore di Forza Italia, e Matteo Salvini, ha incrociato e stretto le mani su un'ampia federazione di movimento del Sud, attraendo le forze politiche pronte a collaborare, iniziando dal suo movimento diventerà bellissima. Secondo i bene informati, la nomina di Giovanni Toti, a coordinatore nazionale di Forza Italia, sarebbe maturata soprattutto dalla volontà di Berlusconi di evitare fughe dal partito. E invece è accaduto che, all'Assemblea regionale siciliana, come primo passo verso la concretizzazione del progetto, è stato depositato il documento di costituzione del gruppo parlamentare Ora Sicilia, alla quale aderiscono i deputati Luigi Genovese, Luisa Lantieri e Daniela Ternullo, che salutano rispettivamente Genovese e Forza Italia, Lantieri e Partito Democratico, e Ternullo, Cantiere Popolare, Movimento per le Autonomie. Il capogruppo di Ora Sicilia è Luigi Genovese, figlio di Franco Antonio, e la famiglia genovese, già in contrasto con il coordinatore di Forza Italia, Gianfranco Micicchè, alle scorse elezioni europee del 26 maggio ha votato per la Lega. Il progetto di Musumeci, Toti e Salvini, la cosiddetta terza gamba del centrodestra, rischia di sottrarre spazio a Forza Italia, che in Sicilia, con Micicchè, è, almeno per il momento, in contrapposizione a Salvini. E la terza gamba, ancora almeno per il momento, non è bene accolta dai centristi di Saverio Romano, quindi Cantiere Popolare, e di Raffaele Lombardo, quindi Movimento per le Autonomie. E ciò perché a Romano e a Lombardo la terza gamba appare come una centrodestra, che di centro ha poco e di destra molto. E infatti, a seguito della costituzione del gruppo Ora Sicilia, Sala d'Ercole, Saverio Romano commenta La costituzione di un nuovo gruppo all'Assemblea regionale, i cui due terzi facevano già parte di gruppi della maggioranza, fortemente sollecitato dall'assessore Razza, mette in discussione il principio di leale collaborazione tra i partiti che hanno eletto Nello Musumeci alla presidenza della regione. Non si può non stigmatizzare quanto accaduto e quindi chiamare il presidente Musumeci ad un intervento chiarificatore per evitare l'apertura del mercato delle vacche al quale, sia ben chiaro, noi ci sottrarremo. Paesi sovrani che si chiudono in se stessa possono soltanto portare alla disgregazione.